Grazie, è un'opportunità poter parlare di questo convegno del 19 e 20 ottobre qui a Firenze, il 17esimo convegno nazionale congiunto OPIFER e American Academy Psicanalist and Dynamic Psychiatric. In realtà ormai c'è un sodalizio e OPIFER esiste da oltre 20 anni, ma con i convegni congiunti ne abbiamo fatti già molti e siamo arrivati al 17esimo. Quello di oggi è proprio la cura e la psicanalisi, quindi un tema dell'attualità, cura e psicanalisi oggi. Abbiamo analizzato in questi due giorni alcune caratteristiche della clinica, la verificabilità dei dati, una modalità della diagnosi e alcune linee guida. La giornata di ieri l'abbiamo tenuta in via Polco-Portinari ed è stato possibile poter partecipare anche a dei crediti, quindi nel pubblico c'erano alcuni medici o alcuni specializzanti che avevano un'esercitata di questo e quindi hanno in qualche modo potuto fruire anche di avere questi crediti. e per tutto quel che ne può valere, perché è una cosa un po' contrastata, però hanno chiesto a noi di OPIFER di poter fare un convegno accreditato e noi ci siamo messi in questa condizione. La condizione di oggi qui all'ospedale Santa Maria Nuova, che è un ospedale storico in Firenze, è stata diversa perché è stata più libera, senza avere il problema di dover compilare i questionari, quindi è veramente una seconda giornata dove ci siamo sentiti proprio in questo convegno della cura, quindi del prendersi cura e della psicoterapia, la psicoanalisi, come oggi procede, quindi dove stiamo andando, perché è importante riflettere su queste cose e comunque portare un seme di quello che si è disquisito. Nelle varie scuole e associazioni di ricerca che sono confederate con OPIFER, questa è un'opportunità anche per gli studenti delle scuole stesse che a questi convegni sono invitati gratuitamente, o delle università adiacenti, e proprio perché, come dice il nostro Presidente Onorario, prima Francesco Galli, è importante che anche i giovani inizino a far parte di questa famiglia di OPIFER, perché in qualche modo se l'OPIFER va avanti, deve andare avanti sia nell'esperienza di quelli che hanno fondato OPIFER, ma anche nella freschezza e nell'attualità di quelli che sono i temi e di quello che interessa anche ai giovani. Quindi è un convegno proprio molto partecipato, con tante sfumature e con tanti progetti che porteremo avanti nei prossimi mesi, e addirittura il Piero Francesco Galli ci ha dato un progetto su un po' un'aneddotica di come sono nate queste associazioni o queste scuole, proprio per portare un punto fermo su quello che è l'esperienza del passato e cominciare a costruire, come dire, un libro di aneddoti dove piano piano ci si evolve e quindi questa è una cosa molto interessante. Abbiamo visto tanti punti di vista, punti di vista giuridici, punti di vista clinici, punti di vista didattici, quindi tutta una serie di tematiche che hanno proprio portato a un coronamento di quella che è la cura e la psicoanalisi oggi. Dobbiamo pubblicare, stiamo finendo di pubblicare gli atti del convegno del 2016, psicoanalisi e neuroscienze, a cura mia e di Sergio Caruso, quindi ci mancano ancora alcune relazioni e sarà pubblicato in NEP nella collana Nuovi Orizzonti ed Inconsciute Società e chiaramente quest'anno ci portiamo avanti già pensando agli atti di questo convegno per avere già tutte le relazioni e partire questa volta in sprint già da oggi, quindi cura e psicoanalisi oggi, atti possibilmente nei prossimi mesi. Grazie.